Ben ritrovati cari amici telespettatori di Fano TV. Oggi per l'approfondimento in studio vi portiamo in un piccolo borgo che nasce sulle colline nel comune di Sant'Ippolito, dove ogni anno la comunità del luogo lavora per portare avanti una tradizione gastronomica una delle più longeve e genuine in terra marchigiana. Un evento ideato e portato avanti con amore e passione dai cosiddetti marinai delle montagne, abili ricercatori di lumache e provetti cuochi. Vi sto parlando della Sagra della Lumaca di Sorbolongo e diamo il benvenuto a Sonia Zanelli e Deborah Delfino. Ben arrivate. Grazie, grazie dell'accoglienza. Sonia, chi va piano va sano e va lontano. Se n'è fatta di strada da quel 1972? Beh, se n'è fatta tanta. Siamo partiti da piccoli numeri per poi adesso avere grandissimi numeri. Parliamo di mille, mille e cinquecento persone nelle ultime edizioni. E lo slow food comunque funziona, funziona. Il nostro è veramente slow food, perché chi va più lento della lumaca, no? Chi erano i marinai delle montagne? Beh, i marinai delle montagne erano dei vecchi cercatori di lumache che andavano o nel mattino, le prime ore del mattino o quelle della sera, quando c'era un po' di umidità, andavano per i campi o per i fossi a cercare le lumache, poi portarle a casa, spurgarle e cucinarle. Debora, puoi dire qualche nome? Sì, abbiamo un fondatore, Cocci Marcello, che poi subito dopo sono entrati Paolo Traiani e Giulio Tomassini, che ancora è proprio il motore della nostra macchina, è lui che ci coordina un pochino il tutto. La Sagra vuole promuovere il borgo? Quanti abitanti stima Sor Bolongo? Il borgo dentro le mura, quindi dentro il castello abbiamo dei 35-40 abitanti più o meno. e intorno abbiamo sui 400-500 abitanti sparsi per tutta la campagna di Sor Bolongo. Quindi il borgo è una chicca, penso che tra i tre forse è il più bello, quello più caratteristico. Tra i tre dico di Sant'Ippolito, perché abbiamo Sant'Ippolito col castello, rinforzate e Sor Bolongo. Sor Bolongo è quello più in alto, quindi si trova tra la vallata del Cesano e quella del Metauro e da lì possiamo vedere il mare, il Catria, abbiamo una visuale bellissima. Vale la pena solo venire a vedere il panorama. Quindi mangiare bene e visitare un posto che merita. L'edizione di quest'anno, la 48esima, giusto? Dopo il fermo dovuto al Covid, la pandemia, tutte le restrizioni. Che novità abbiamo in questa nuova edizione? Beh, questa nuova edizione, oltre che facciamo l'inaugurazione del venerdì, che non è mai stata fatta, inaugureremo la piazza e ci sarà anche un bel concerto. E abbiamo un piccolo concorso per bambini, quindi la riciclomaca, un invito a creare delle lumache con materiale di riciclo, quindi un po' per far capire ai bambini che prima di buttare via una cosa si può realizzare qualcos'altro, quindi un riuso e queste sculture verranno esposte poi alla Sagra della Lumaca con il loro nome. Ci saranno i nostri piccoli artisti che la presenteranno, penso. Ovvio, sì, sì, ne abbiamo già diversi. Già abbiamo un buon numero di iscrizioni, questa è la prima volta, quindi il prossimo anno contiamo in più presenze. Sicuramente la Sagra della Lumaca attira persone da ogni luogo. C'è un servizio di navetta disponibile anche quest'anno? Certo, c'è la navetta che percorre tutta la Mondaviese, quindi da San Giorgio fino a anche tutta Santipuoto, non so, a San Rivecchia, a Pian di Rose. E comunque con la navetta si riesce a raggiungere benissimo Sorbolongo senza aver l'ansia di lasciare la macchina nella strada o da qualche parte, quindi venite tranquillamente con la navetta. E oltre stand gastronomici, vogliamo menzionare qualcuno, come sarà disposto il tour gastronomico per le giornate del 10-11 giugno? Beh, di questo ce ne parla Debora. Sì, abbiamo diversi stand gastronomici, tra l'altro uno è gestito proprio dalla Proloco di Sant'Ippolito che ci dà sempre una mano da diversi anni. Abbiamo anche come novità quest'anno un piosco della Lumaca Ubriaca che è gestito appunto da dei giovani che grazie anche a loro che siamo ripartiti per questa nuova edizione perché dopo tre anni di fermo comunque è stato molto impegnativo. però vedendo loro, questo gruppo di giovani così volenterosi che volevano che questa sagra fosse fatta, abbiamo deciso di riprovare e loro appunto, molti di loro, gestirevano questa Lumaca Ubriaca, questo chioschetto della Lumaca Ubriaca. Debora, tu sei presidente della CS. Quanto è importante per la riuscita di queste manifestazioni e anche per portare avanti le tradizioni di un popolo, di una comunità, il volontariato? Ma secondo me il volontariato, soprattutto in questi piccoli borghi, è fondamentale. Io ti parlo per la mia esperienza, l'amore che ho per questo paese e la voglia che continui a vivere e non sparisca perché comunque purtroppo succede che in questi paesi un pochino comunque lontani dalla praticità di tutto vengono un pochino a mancare dalle persone però ti ripeto, io ci sono cresciuta, ci sono nata voglio che vada avanti questa cosa e fortunatamente nel nostro comune abbiamo diverse associazioni come ti dicevo prima la Proloco di Sant'Ippolito abbiamo la protezione civile abbiamo comunque tutta l'amministrazione comunale che ci dà un grandissimo supporto e quindi dai, è fondamentale. Non mancheranno momenti di svago e di ballo? Ovviamente, come si può mangiare e non ballare bisogna smaltire quello che si mangia nonostante i nostri piatti comunque siano leggeri però il ballo ci vuole a fine serata quindi ogni serata abbiamo un programma diverso ci sono anche delle esibizioni di qualche scuola penso e quindi ci sono dei giocolieri non è solo ballo abbiamo intrattenimento per tutti i gusti giovani, meno giovani Gastronomia, tradizione e artigianato? Eh già, certo l'artigianato non può mancare a Sant'Ippolito e quindi a Sorbolongo anche troveremo gli artigiani del luogo e non solo Il menù è a base di lumaca ma per chi non volesse per chi volesse mangiare altro ci sono anche piatti tipici? Sì, io consiglio comunque di provarla la lumaca perché è veramente buonissima però volendo si può mangiare la classica piadina che sia col prosciutto, l'erba cotta poi ci sono le salsicce, le patatine fritte ci sono altre cose in alternativa alla lumaca però vi consiglio comunque di assaggiarle soprattutto quelle a rosso che sono fantastiche E allora uno spoiler su qualche ricetta da proporre anche a casa a chi ci sta ascoltando? Ah, non vi possiamo dare le ricette della sagra della lumaca vi diamo una piccola ricettina che però potete fare a casa quindi vi prendete visto che abbiamo le lumache le vendono anche negli ipermercati adesso ho visto quindi potete prendere un etto e mezzo di lumache belle pulite prendete 4 o 5 uova le sbattete bene ci mette un pizzico di sale e di pepe e una grattata di formaggio unite il tutto e fate una bella frittata vedrete che impazzirete per questo piatto Deborah, qualche altro consiglio per le cuoche che ci stanno seguendo? Beh, guarda, sono stata proprio il nostro piatto forte la lumaca rosso ma le mie cuoche, le mie signore mi hanno detto non svelare assolutamente nel suo segreto quindi invitiamo tutti a venire alla sagra così potrete assaggiarle quindi ci avete stuzzicato l'acquolina e non resta che andare a Sorbolongo il 10-11 di giugno per la sagra della lumaca e deliziare i nostri palati un ringraziamento a Sonia e a Deborah grazie a voi grazie mille vi aspettiamo e ci mettiamo grazie mille grazie mille grazie mille grazie a tutti grazie mille grazie a tutti gray vi попроб 트� inchescola